24 giugno Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Filippesi 4.4 GIOIA AUTENTICA La gioia e la felicità, manifestate, il più delle volte, sono soltanto apparenti, superficiali, passeggere e presto cedono il posto alla delusione. La gioia vera, quella del cuore, è soltanto quella nel Signore. Chi si affida a Dio, confide in Lui con tutto il cuore e dipende da Lui in ogni cosa. Realizza la vera gioia. La gioia del Signore è continua e non dipende dalle circostanze. Non si esaurisce in poco tempo perché cambiano le condizioni o perché muta lo stato d'animo. Non è condizionata dalle situazioni nelle quali ci si trova, né dalle difficoltà affrontate. Essa è duratura e profonda nel cuore. L'invito della parola di Dio per te è RALLEGRATI, un invito che non riguarda i più meritevoli, i migliori, ma tutti quanti. Riposa nel Signore e realizzerai del continuo la gioia autentica. Anche se in questo momento stai attraversando una grande prova e nel tuo cuore c'è sofferenza, se ti affidi a Dio, Egli ti darà la vera gioia affinché anche tu ti possa rallegrare del continuo nel Signore.